Ciao, fratom! Mo! Ma! Ehm, signor Pogo, siamo ritornati! Oh no, oh no, di nuovo il gioco del gatto di Capibara! Ma sai cosa abbiamo scoperto? Ho scoperto una cosa bellissima! Tu vuoi fare il Capibara? Faccio finta che sei il Capibara? Sì, ovvio, ma invece è un... Ok, no, aspetta, guarda! Come vuoi essere? Puoi vestire... Lo voglio con questo cappello! Ok, lo vuoi chonky? Sì, sì, super chonky! Ok, faccio pure io con questo super chonky! Facciamo due gentleman! Vero, i due gentleman! Eh, guarda che figata! Aspetta come si ritorna, ok, resumo... Mamma mia! Guarda che bello, chonky! Mamma mia! Ma hai visto la piscina con i Capibara dietro? Sì, era quel livello del carrello, ti ricordi? No! Questo? Sì! Dovevo fare questo qui che, ti ricordi, ero caduto come uno stupido! Ah, sì, sì, sì! Guarda che figo! Ma questo gioco l'hai ideato o uno psicopatico o un genio! O un genio psicopatico! Ok! Mamma mia! Questo è neanche il gioco! Ah! Ma come ti sei salvato! Devi collezionare il... Mito! Eh, sì! Ah! Ah! Mi sa che hai scelto la strada più... Beh, oddio! Però c'è qualcosa lì! No! Puoi farcela, puoi farcela! Non c'è nulla di strano, se non un gatto, un Capibari... Su un carrello, esatto! Un livello nell'iperspazio dove devi saltare sulle cose... Non dare più lento, che vado troppo veloce io! Ok! Ah, puoi anche rallentare... Oh, che è successo? Ma... Mi sa che c'era un fosso... Oh, no, no, è diventato le gare di GTA... Oh! Oh! Sì! Oh! Ok, facile! Un Lemmy Do it for you liberato! Non c'è un portale? Mi sa che mi entra nel portale! Si fa sempre più interessante! Ma... Ma ho sblocato il carrello pure? No, aspetta, ha senso! E c'è un carrello... Lancio carrelli? Ma... In che senso? E ma dove bisogna andare? Non so, si dovrebbe esplorare! Vediamo la cascata se c'è qualcosa, c'è del parkour... Sì, la cascata di sicuro c'è qualcosa... Esatto, un parkour? Dobbiamo fare il parkour capibar... Senti, perché non posso fare tutto lo sforzo fisico... Eh, bro! You are strong! Hai visto? No, cosa? Ti ha perso un coso giallo sopra... Vero! Oh, è riapparso! Quando il gatto salta e gira... Immagina che dica tipo... I'm a fidget spinner! Spirin! Guarda, vai! Eh! Ok! La mia tosse ti ha fatto saltare, no? Forse così? No! Dall'altra parte controlla... Vero! Vero! Eh... Eh! Troppo! Non fa niente, non fa niente... È fattibile, è fattibile! Dai, 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 è fattibile! No, però... Ti prego capibar! No, no... Devi premere il raggio però lì! Eh, però il raggio ti porta troppo lontano, bro! No, lo devi premere poco! Oh, aspetta! Oh, sto triccando! Il tricna! E niente, mi sa che io mi sono baggato nella roccia, altro che spada nella roccia, il capibara nella roccia... Ah, è rimasto! Oh, oh! Che ho fatto? Ma... Come hai fatto? Non lo so! Beh, sì sì! E ora? C'è qualcosa laggiù? Eh sì, mi sa che c'è del parkour intrigante... Eh! Oh! E no! E invece... E invece... Ho paura! Ma... Fra! È diventato 2D? In che senso? Ma ti puoi mettere sul cap... Ma funziona il razzo? Sì! Ma... Oh no, quello è un pinguino! Ecco, cosa sei per il carrello! A picchiare i pinguini, no? Povero Lorenzist! Combatto Lorenzist! Dai! Abbiamo detto allo stesso momento... Ma si distrugge questo? No! Oh! Che ci si può ficare... Cat! Cosa? Cat! Mi sa che è un muro invisibile, entraci dentro! Sono un genio! Sono un genio! Easy! È bellissimo sto gioco! Ma sto livello è assurdo, cioè non pensavo... Pensavo... Non ci credo! Forse si sfonda? No, non via! Dovresti provare... A rifare il salto con il raggio verso l'alto! Eh, non avrei questo 2D! Eh, no, penso sia uguale! Mmm... Come hai fatto a fare il raggio verso l'alto? Non lo so! Coprimi il tasto del raggio e poi vai su, tipo con... Eh, no! È questa la cosa! Forse no, mi l'ho buggato! No, non penso si fosse buggato! Ma, Poggo? C'è un pinguino! Eh, sì, è come quelli che stavi picchiando prima! Esatto! Non è che ci devi solo parlare con questo! Ciao, fratam! No, 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 non ci devi parlare! Non ci devi parlare! Ok, questa è la versione 3D! Ah, no, hanno in ostaggio un... Oh, mamma mia! Oh! Un altro! Easy! For you liberato! Uh! Aiuto! No, aiuto! Gras, bro! Il capibaro è un po' più particolare! No! Ma il capibaro mi tradisce! Dovrebbe saltare prima! No, 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 è impossibile! È impossibile farlo questo salto! Dici? Fratam? Ma con shift non corri? No, 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 no! Ma non è che devi fare col razzo? Cioè, devi prendere la rincorsa col razzo e fare il salto col razzo? No! E lo... Gente! È un po' deserto questo posto! Non lo so, cioè... Posso sfondare questo muro? Quale? Ma un coccodrillo quello! Ma? Ma è picchiabile? Non lo so! Ciao, fratam! Ma? Ma? No, no, ma... Eh... Che sign... Grazie, Daxi! Era una barca? Sì! Cosa sono? Ci sono i pinguini imperatori! Ma? Mi mettono un po' di ansia, se vuoi essere sincero! Pure a me! Sì, sincero! Oh! Non ti far prendere! Non ti far prendere! Oh! Sono fortissimi! Che forte è questo! Oh! Ok! Go, bro! Sì, ma c'è dell'altro! È pieno di pinguini! Esatto, mamma mia! Oh, ma quanti loro si stanno? Mi dispiace, Lorenzis, ma dobbiamo scomparire! Oh, ma che è questo il segno russo? Ah, no! Perché ce l'avevi dietro? Forse devi salire là sopra! Vediamo! Questo gioco è totalmente stupidissimo! Esatto! Oh! Pazzo! Non mi dire! Buttatici dentro! Perché? Va bene! Secondo me c'è qualcosa! Lo sapevo! Lo sapevo! Ma cos'è sta roba? È quando Shrek va dal drago! Esatto! Ma? Oh! Che è sta roba? Oh! Potrebbe essere un piccolo problema! Oh, non devo mai fermarmi in poche parole! Ma sembra tempo run! Esatto! Qua c'è un ponte strano! Molto sus quel ponte! Oh, mamma mia! Oh, mamma mia! Ma non devo mai fermarmi in poche parole! È di là, è di là! Oh, c'è una chiave! Aspetta! Non è... Oh! Ho capito! Non è che è la chiave della porta del livello di prima? No, mi sa perché quella all'altra... Ti ricordi quel salto che volevo fare in un'altra... Quel salto che volevo fare nell'altra zona... Non è che forse pure... Eh, non è che forse pure qua sta una con la chiave! Ah, dici che c'è una porta con la chiave! Intrigante! Andiamo a vedere! Sono pazzo! Sono pazzo! Hai perso la chiave, pazzo! Ah! No, no, no! Ce la sta qui! Capipara! Capipara! Oh, mamma mia! Oh, mamma mia! Ok? C'è una cosa gialla! Oh, eccolo! Ah, è un let me do it for you e basta! Ma è una cosa fighissima! Cioè... Beh... Let's go! Oppure... Let me do it for you! Let me do it for you! Qui sono? Ma? Fra? Ma? Ma è un boss? Ho capito! Sì, è un boss, sembra! È un boss! Devi andare! Andiamo dal boss! Ok! Sono arrivato poco! Devi stare attento! Non è che queste cose ricadono nell'acqua, no? Ho sbagliato il scivolo! Oh, devo stare attento! Piano, piano, piano! Ok! Guarda che prickshot! Mamma mia! 360! Mamma mia! Diventa sempre più grande, comunque! Vero! Sarà un boss! Il gioco del cervo! Vero! Oh, mamma mia! Eh! Cosa è? Ma? Hai gli occhi rossi! No! Fra! Cos'è? Non ci posso credere! Ma? A te capi contro the biggest bird! Hanno usato la foto di un giro, vero! Oh! Fra, bravi, devi stare attento! Devi stare attento! Fra, ma che figata sto gioco! Ma? Ti ha schiacciato, hai visto? Sì! Piano, piano, piano! No, è fortissimo! È fortissimo! No, ma non ti devi far schiacciare! Non ti far schiacciare dai problemi! Non ti far schiacciare dai tuoi! No, cavolo! Sono matto solo io, eh! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Elder Ring mi ha insegnato tutto! Vai, vai! Attento, 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 vai! Dai! Sì! No! Fra, cos'è? Fra! Fra! Cos'è? Sparagli! Aia! No, mi sa solo dietro, posso sparagli! Eh, sì, sì, sì! Oh, no, è difficile questa! Aia, è difficile! È difficile! Ah, no, invece no! Ah, ok! Ok, 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 ok! Uh! Ah! Cat, fai proprio cacare! Ma a me è fortissimo! Eh, ma devi ammazzare gli altri, se no non puoi giocare! Vedi, devi spaccare prima gli altri! Lo so! Oh! Aspetta! Aia! Ma il suo carro non va solo dritto! Aia! Vai, 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 vai! Vai! Non preme! Non preme! Entra! Entra! Non entra! Aia! Lo devi schivare un po' prima! Eh, lo so, bro! Però è difficile! Stagli sempre lontanissimo! Così è il tempo di schivarlo! Lo... Eh... Ah! Sei baccato! Perfetto! E funziona? Secondo me no! Aspetta, non so mirare! Dagli una testata! Aspetta! Non so, sa mirare! Ma perché mira a destra? Non devi saltà! Oh! E invece? E invece? Non ci credo, si è rotto il pinguino! Non... Come è possibile? Sì! Dai! Number one! Oh! Three! Io non ho parole! Io non ho parole! Bene, signor Poggo! La giustizia ha fatto il suo lavoro! Quindi... Sì, ma la giustizia sono io! Tu non hai fatto proprio niente! Eh, vabbè! Però la giustizia si deve riposare adesso! E vatti a dormire, scemo! Ok! Mega Sard! Grazie per la visione!